Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto presentando è un romanzo storico sulla storia di una giovane bambina e il suo incontro con Hitler, un racconto di rinascita, un ritratto vivido della resilienza e della capacità dell'essere umano di trovare la speranza anche nei momenti più bui. La trama del libro Un balcone con vista Bismarckstrasse della scrittrice Elga Snyder, pubblicato dalla casa editrice Solferino, è la seguente Berlino 1944. Elga è una bambina di 11 anni che vive la realtà della guerra in un paese sull'orlo della disfatta, in una città distrutta dei bombardamenti e ridotta la fame. Una mattina di dicembre la ragazza agitata non vuole incontrare lui. Il nonno le ha sempre raccontato che è un uomo malvagio, il primo responsabile delle loro sofferenze, ma non ha scelta insieme al fratello Peter. Elga è costretta a recarsi al bunker del Führer. Sono fra i piccoli ospiti scelti per incontrare Adolf Hitler in persona, un'ultima vani iniziativa di propaganda per risollevare il morale del popolo. Il rifugio le sembra triste e puzzolente, ma ciò che più la colpisce sono dei magazzini così stipati di provviste che potrebbero sfamare l'intera città. Il leader nazista non è quello che Elga si aspettava. L'uomo a cui stringe la mano quel giorno le appare come un vecchio stanco e malato che inchiute più pena che paura. Un incontro terribile alle soglie però di una nuova vita, un momento che diventa il simbolo di una guerra ormai finita e la speranza di un futuro migliore, che per la ragazza significa il ritorno dal padre e dal fronte e il trasferimento in un paesino dell'Austria dove vivono i nonni. Lì Elga sente per la prima volta che potrebbe essere felice. A scuola conosce ragazzi come lei e fra nuove amicizie, una prima cotta e piccole incomprensioni, trascorre un'estate di spensieratezza che ha finalmente una parvenza di normalità. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato e se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video ed aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.